A Ischia segnali di ripresa per il turismo dopo un agosto che ha fatto registrare una riduzione degli arrivi significativa, 45.000 persone in meno. Il punto con Maria Valeria Vendemmia. I grandi assenti dell'estate 2020 e gli stranieri cominciano a tornare sull'isola di Ischia, ma non bastano a salvare la stagione per la qualcosa, le speranze sono tutte riposte nel mese in corso. Il mese di settembre è partito abbastanza bene, con numeri ovviamente molto più bassi di quelli degli anni scorsi, però comunque si comincia a rivedere qualche straniero, insomma qualche spiraglio positivo sembra esserci. Qui l'estate appena trascorse, oltre che per il Covid verrà ricordata come quella del turismo di prossimità, un target però che si caratterizza per la brevità del soggiorno, che infatti in questo mese di agosto è stato all'incirca di 4 notti, molto meno che la settimana tradizionalmente richiesta da coloro che soggiornano nell'isola verde. Lo confermano i dati della Capitaneria di Porto, che hanno registrato 282.000 arrivi ad agosto rispetto ai 327.000 dello stesso periodo del 2019. Dopo un luglio caratterizzato da un'occupazione del 40% delle camere, agosto si è assestato al 60% circa, occupazione scesa istantaneamente sotto il 50% in questi primi giorni di settembre. A pesare sono soprattutto l'incertezza legata al Covid dei problemi dei trasporti aerei. Solo ad agosto, a Capodichino, per la GESAC, la società che gestisce lo scalo, c'è stato un crollo del traffico aereo internazionale del 70%. Attualmente lo scalo serve appena a 68 destinazioni fuori Italia. Noi dobbiamo fare in modo che si agevolino i voli dall'estero, magari per esempio un'idea potrebbe essere ridurre la tassazione all'aeroporto in modo che questo possa ridurre le tasse aeroportuali e le compagnie. Un peccato per l'isola che mira a diventare meta turistica per tutto l'anno.